Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Massita606 E oggi dopo tantissimo tempo, perché è uscito quello nuovo Siamo tornati nella serie di unboxing di Massita606 Ma non solo, è tornata la serie CALCATORI PAI È tornata, è tornata ragazzi Dal prossimo episodio facciamo la serie Ogni giocatore che trovo lo inserisco nella squadra di PES Quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina Andiamo ad unboxare questa cosa sacra A me sacra E ragazzi mi sono accorto Vedendo il video di HOM Lascio il suo canale in descrizione Che hanno inserito anche gli scudetti di serie C Adesso voglio andare a fine album E infatti Girone A Come L'ecco Qua c'è l'ecco E lì c'è la figurina da attaccare Ragazzi non mi spacchetterò dalla parte dei cuscini Perché è un casino Poi non so fare una postazione Quindi direi ragazzi di spacchettarle I pacchetti sono così Quest'anno le cose Le bustine che vinci Mi sa che devi andare nel sito A cercare Subito la prima partita La prima che troviamo E' la squadra della Fiorentina E' la squadra dell'Ascoli Attenzione E' la prima parte di Del Cagliari Non l'abbiamo vinto Stranamente Amin Iunes Ragazzi Attenzione Federico Fazio E Pepe Reina Ex Della Roma Scusate ma c'è mia sorella Che fa il bagno come solito C'è da fare casino Comunque le bustine sono tre Questa è la seconda E già vedo qualcosa di nuovo Cioè Il bus dell'Atalanta La prima metà Della bus dell'Atalanta La prima metà Del bus del Napoli Poi abbiamo Piacenza Ravenna Padova E Poggia Non lo so ragazzi Poi mandatevi a Cagare voi che siete Di questa squadra qui Poi andrò a cercare Su Google Non l'abbiamo vinto Ovviamente Allan Radovanovic Scusate C'è messo la chievo La parte dei tre Del chievo Verona Con Giaccherini E Joël Obi E andiamo col terzo Pacchettino di oggi Regà Uuuu Vedo già Bella roba Abbiamo La prima parte Della squadra Dell'Udinese Abbiamo Catania Catanzaro Il Cavese E Monopoli Poi devono Andarmi a cercare Questi qua Questa squadra qua Le conosco tutte A parte questa qui La squadra Del Frosinone Non abbiamo vinto Stranamente Attenzione Fabio Grosso Che ormai Se ne è andato La Brescia E Rolando Maran Seculin Dovrebbe essere Il secondo portiere Della Sampdoria E Fabio E Fabio Quagliarella Il più vecchio Calciatore A segnare Una doppietta In azionale Quarto pacchetto Di oggi Speriamo di trovare Qualche Della Juve In questo spacchettamento Almeno in questo spacchettamento La prima parte Del bus Del Cagliari La prima parte Del bus Del Sassuolo Il Toro Martinez Attenzione Non abbiamo vinto Ovviamente Murillo Kirikesh Il 3 del Pordenone Di Gregorio Ciao Giovanni C'è uno che si chiama Di Gregorio Allora La squadra Femminile Del Sassuolo La seconda parte Del Sassuolo Dovrei avere Anche la prima parte No È dell'Udinese Non del Sassuolo Yeah Ho completato C'è una squadra Yeah Sono un grande Andiamo avanti Romelu Lukaku Questo fa male Non abbiamo vinto Gastaldello Del Brescia Romario Binzari E Jacopo Sala Del Last Pal Niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Dovrò andare a indagare Su questa Su questa squadra Qua Anzi andiamo in live Scusatemi Ragazzi Era il Modena Era il Modena Sono stupido Vabbè ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto Non vado ad attaccare Le carte Lo faccio con un tempo Cioè dopo Prima video Spero che il video Vi sia piaciuto I love ballabio Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Noi ci vediamo Nel prossimo video Qua da Master Sintro 6 È tutto Bella ragazzi Sì